Allora cominciamo quasi puntualissimi, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, io sono molto felice di essere qui, di prendere parte a questo Festival del Classico che è un'occasione importantissima per ragionare insieme, per ricevere anche nuovi stimoli e nuove prospettive di riflessione ma anche di ricerca per le persone che si dedicano a questo ambito. Sono felice di avere qui, di presentarvi Barbara Castiglioni che è una grecista con secondo me un'ottima vocazione alla comparatistica e che tra i diversi suoi lavori ha recentemente curato e introdotto l'Elena di Euripide per la prestigiosa collana Lorenzo Valla della Mondadori e quindi insomma ha studiato, identificato un personaggio femminile importantissimo appunto come Elena e sono onorata e contenta allo stesso modo di poter dialogare con Mauro Bonazzi, docente di storia della filosofia antica, il mio primo esame anche se poi sono laureata in letteratura greca, docente a Utrecht a Milano, collaboratore del Corriere della Sera, autore di molti saggi, ho visto anche di matrice platonica prevalentemente ma anche su molti altri soggetti, ricordo tra gli ultimi Creature di un solo giorno, i Greci e il mistero dell'esistenza per Einaudi 2020, quindi un argomento importante in parte ispirato al simposio di Platone e comunque all'opera platonica in parte dedicato a studiare l'idea della morte come connaturata all'individuo e quindi in qualche modo sostanziale anche alla sua esistenza. Penso al rifiuto dell'immortalità di Ulisse, penso al dialogo tra un fisico e un metafisico in Leopardi, ecco quindi insomma è un tema molto importante. Ho visto anche che tra le opere forse un po' più divulgative ma questo non l'ho letto, c'è piccola filosofia per tempi agitati proprio nel 2019 dell'anno del Covid, ecco questo per farci anche capire come mi pare che si avverta anche nel dibattito generale come la filosofia serva sì moltissimo sempre a comprendere la complessità, a calarsi nella complessità del mondo ma anche in qualche modo dare un farmacon, un antidoto anche rispetto alle ansie, ai problemi della nostra vita. Ecco l'argomento su cui oggi vorremmo concentrarci, ragionare insieme è la donna in Grecia. Ecco quando io ho letto questo titolo mi è venuto in mente qualcosa forse di già sentito, sembrava un argomento un po' tradizionale, un po' già affrontato, però il fatto che non lo sia, come vedremo, è indice della smentita di un'obiezione che viene fatta molto spesso noi umanisti, classicisti, filosofi, cultori della letteratura, cioè ma non è già stato tutto detto, ma questi argomenti non sono già stati affrontati, ma che senso ha insomma la ricerca in ambito umanistico. Ecco, non voglio portare lontano l'argomento, ma mi sembra una premessa importante. Ecco, il fatto che la risposta sia sì, c'è sempre qualcosa di nuovo da dire e c'è sempre qualcosa di nuovo su cui ragionare, si deve al fatto che il mondo va avanti, che la società va avanti e quindi anche i metodi, gli approcci di ricerca devono continuamente aggiornarsi. Anche appunto le domande del presente, le teorie psicologiche, sociologiche, ci permettono di vedere un certo argomento da angolature del tutto nuove. Quindi per tutelare i nostri beni culturali, che non sono solo arti figurative, ma sono anche letteratura, occorre la filologia, occorre l'ermeneutica, occorre l'interpretazione, occorre il confronto, occorre l'aggiornamento anche sulle prospettive teoriche di base che permettono l'avanzamento di questi discorsi. Ecco, quindi dobbiamo continuare a finanziare la ricerca in ambito umanistico, dobbiamo parlarne, dobbiamo confrontarci proprio per mantenerla viva, altrimenti quello che è stato detto, ad esempio, sulla donna negli anni 70 e 80 è molto diverso da quello che si può dire oggi e lo vedremo. Ecco, perché questo? Ecco, questo anche perché, come tutti abbiamo visto, negli ultimi anni, negli ultimi tempi c'è stato una sorta di neo-femminismo, cioè di una riattivazione del dibattito sulla funzione, sui ruoli della donna. Un dibattito che a volte ha portato anche alcuni estremi, soprattutto su questa ossessività nel rispetto di alcune norme linguistiche, eccetera, che per alcuni è considerata addirittura eccessiva. Però, secondo me, è stata comunque rilevante perché ha portato a riformulare il problema, quindi a collocare anche l'orizzonte critico su nuove premesse. Ecco, quindi questo mi sembra importante. Anche l'attenzione alle autrici, ecco, io ho visto che non sono molti, però ci sono stati anche dei tentativi molto recenti di riconsiderare tutto il patrimonio delle filosofe, delle poetesse e delle storiche greche e latine. Cioè, mentre noi ricordiamo in genere Saffo, ricordiamo Corinna, ecco, al massimo, poi qualche autrice successiva, ecco, questa raccolta cerca di recuperare invece tutte le autrici che anche a livello frammentario hanno lasciato qualcosa. Allora, noi potremmo domandarci perché. Ecco, molte sono pitagoriche, ad esempio, perché se non ricordo male, il pitagorismo era aperto più alle donne, quindi era più favorevole, ma poi parleremo anche di questo, anche proprio presso Platone. Ecco, quindi, a pari mio, è importante tornare a porsi questo problema, la donna nell'antica Grecia, dalla prospettiva del 2021, ecco, dalla prospettiva dell'oggi. Ecco, questi due studiosi l'hanno fatto in contesti diversi, in modi diversi e quindi penso che ci possano dire delle cose importanti. Ecco, Barbara Castiglioni, vorrei cominciare da te. Ecco, il suo lavoro sull'Elena ha aperto una prospettiva molto d'ampio raggio, rivolta ad approfondire il personaggio femminile di Elena, ma ci sono tantissimi personaggi che hanno lasciato questa traccia così forte, la stessa Penelope, Eletra, Antigone, eccetera, sono personaggi assoluti in qualche modo e che hanno lasciato davvero un segno forte nella voglia di essere riscritte, no? Tutta la letteratura si è riconfrontata con questi personaggi. Ecco, per quanto riguarda l'Elena, vorrei partire di lì, Barbara Castiglioni intitola questa sua introduzione La colpa della bellezza. Ecco, vediamo come questo rapporto, magari cominciamo di qui, se sei d'accordo. Ecco, tra il motivo, il tema, è un po' forse vago, della bellezza, si collega ai personaggi femminili e in particolare rappresenta la caratteristica e lo stigma di Elena. Elena è la causa della guerra, no? Come archetipo, è la causa della guerra di Troia. La guerra di Troia è l'archetipo di tutta la guerra, tant'è che viene ancora usata come esempio nella prima, nella seconda guerra mondiale, in Giraudoux, la guerre de Troia n'aura pas lieu, è sempre Elena. Ma e se è Elena? Perché Elena? Perché le altre donne intorno, no? In questo rapporto anche con la storia. E se Elena non fosse andata in Grecia? E se Elena fosse un Eidolon? Cambia qualcosa? Sentiamo. Grazie Chiara per l'introduzione, buongiorno a tutti intanto. Grazie al circolo, io premetto e sono molto felice di essere qui, anche perché ho studiato a Torino, non sono torinese, però come tutti i non torinesi che hanno studiato a Torino, ho una specie di bovarismo così esistenziale e quindi l'idea di essere al circolo dei lettori la trovo una cosa bellissima e quindi ringrazio anche il circolo che ha pensato a me per questo festival. Tornando al nostro argomento appunto della donna e di Elena in particolare, vorrei premettere che l'appellativo donna nella letteratura greca e soprattutto nella tragedia e nella commedia su cui io mi concentrerò, è una specie di dispregiativo, è utilizzato come dispregiativo nei confronti degli uomini, però il teatro greco e anche il mito, come noi sappiamo bene, è ricco di figure femminili che sono memorabili come Elena, Medea, Fedra, Antigone, Lettra, Ecubal, Cesti, Lisistrata. Allora mi sono chiesta, quando mi hanno proposto appunto questo argomento che appunto come ha suggerito Chiara poteva non essere così innovativo, però perché una civiltà assolutamente maschilista come quella greca, una civiltà che comunque anche solo in due tragedie del quinto secolo, vi leggo dei versi, così si riferiva alla donna. Questo è Ippolito, nell'Ippolito di Euripide. O Zeus, per cui dunque hai messo fra gli uomini un ambiguo malanno portando alle donne alla luce del sole? Se proprio volevi seminare la stirpe dei mortali, non dovevi farla generare alle femmine, ma che gli uomini si comprassero il seme dei figli e vivessero senza donne liberi in casa. Ora invece, perché continua, per portarci in casa questo malanno, distruggiamo le ricchezze della casa e da questo è chiaro che la donna è un grosso guaio se il padre che l'ha generata e allevata aggiunge una dote e la colloca in un'altra casa. Non male, però questa secondo me di Eschilo che vi sto per citare è pure peggio. Colei che viene chiamata madre non è la generatrice del figlio, bensì soltanto nutrice del seme in lei seminato. È il fecondatore che genera, la donna come ospite ad ospite conserva il germoglio se un dio non lo soffoca prima. Questo era Eschilo. Comunque la subalternità della donna nella letteratura greca possiamo dire è evidentissima nella civiltà, già nel mito di Pandora che apre il famoso vaso da cui appunto abbiamo tutti i mali dell'uomo e infatti Esiodo che ci racconta il mito di Pandora la definisce un calonca con, un bel male. C'è un bel artefatto però molto negativo da tutti gli altri punti di vista e se Monide, un altro campione della letteratura arcaica, aveva paragonato le donne a degli animali e le aveva subivise in tribù e gli animali erano per esempio la scrofa, la volpe, la cagna, l'asina, la donna, la cavalla, la scimmia e l'ape. Tornando invece così, passando ad Elena, così ci ricolleghiamo all'idea di Chiara da cui saremmo dovuti partire, possiamo dire appunto questa colpa della bellezza, insomma nell'Iliade e nell'Odissea che sono l'origine della letteratura occidentale. La cosa secondo me stupefacente è che Elena, che in tutto il resto della tradizione è conosciuta come la causa della guerra di Troia, non è considerata colpevole, è piuttosto, non dico che sia una prova di femminismo di Omero, non sia mai, è piuttosto Elena, la sua colpa è solo la bellezza ed è lei a definirsi cagna e a dire ah è tutta colpa mia se gli uomini, i greci e i troiani muoiono per questa guerra, però nessuno, né Omero né nessuno degli altri guerrieri nell'Iliade o nell'Odissea comunque dà la colpa ad Elena, è paride, è piuttosto irresponsabile e la colpa di Elena appunto è solo la sua bellezza e secondo me a questo proposito è interessante osservare anche da un punto di vista dopo filosofico, magari dopo chiederemo meglio a riguardo, che la civiltà greca aveva elaborato l'idea, il concetto di kalokagazia formato appunto da kalos e agazos, il valore del corpo, la prestanza fisica sono uniti alla lealtà, alla virtù, l'estetica presenta l'etica e però l'ideale di kalokagazia in Grecia vale solo ed esclusivamente per l'uomo, questa identità appunto di bellezza e virtù, cioè il guerriero omerico è kalos, kai agazos, la donna invece non si presuppone che una donna bella sia cattiva, però diciamo che in generale non è la prima idea che venga in mente ai greci quando vedono una donna in generale e quando la vedono bella in particolare non è che possa essere bella e buona, così magari adesso faccio parlare un po' lui, così, no ma ci dividiamo così i momenti. tra il gruppo di queste donne animali l'ape è l'unica che si sa, l'ape è positiva, l'ape è l'unica figura positiva in tutto il gruppo. Sì, io volevo appunto a questo proposito faccio solo una domanda, ecco allora la donna nella filosofia, adesso abbiamo sentito qualche appunto sulla donna in letteratura e vorrei passare invece al problema della donna in filosofia. C'è anche una questione di spazi secondo me, perché ad esempio nell'Odissea Telemaco dice spesso a Penelope, quando la situazione si fa un po' più tesa, vai nelle tue stanze, dedicati al telaio eccetera, ecco proprio la rimuove dallo spazio pubblico, però non c'è solo questo nell'Odissea, cioè Penelope è anche un po' un alter ego di Ulisse, quindi c'è un aspetto abbastanza duplice, poi lo vediamo anche nella filosofia, nel trattamento delle donne, cioè da una parte sembrano essere veramente relegati in uno spazio separato, non partecipi della vita pubblica eccetera, però poi hanno inaspettatamente un ruolo che in qualche modo ci meraviglia, cioè appunto anche nell'Odissea Penelope è una donna di grandissima dignità, mentre Ulisse viaggia lei traccia tutto su questa tela, è una donna intelligentissima, che ha le stesse qualità di metis e di fronesis di Ulisse, tant'è che Ulisse usa la parola homofrosune per definire il suo rapporto con Penelope, quindi una specie di corrispondenza, di intelligenza, di affinità elettiva e quindi Omero anche lì è poi più fine di quanto non possiamo pensare, così anche Platone, va bene, è vero che dice anche Aristotele che la donna forse non è adatta, ma adesso sentiamo meglio a filosofare, però perché allora nel simposio Socrate racconta di aver derivato la sua teoria d'amore da adiotima, da una donna, la donna è sacerdotessa anche, la donna è depositaria quasi di un sapere così iniziatico, di un sapere sapienziale in qualche modo, la donna è enigma, è sfinge, eccetera, quindi è depositaria comunque di un valore importante, credo anche per la filosofia. No, infatti sono tutti spunti molto importanti, molto interessanti, quello che mi veniva in mente ascoltando le considerazioni interessanti a partire da Penelope, a partire dalla concezione effettivamente interessante, Elena non viene criticata, perché la bellezza è qualcosa di così travolgente che è quasi un peso che uno deve portare e che nessuno può imputare ad Elena, è interessante perché ci aiuta a vedere come in una situazione in cui sembra tutto normale, in cui la società sembra organizzarsi in modi, come dire, che non presentano particolari problemi, in cui la donna viene relegata all'esterno dello spazio pubblico, considerata in qualche modo inferiore al maschio, poi in realtà la letteratura, la filosofia sono proprio quei momenti in cui questa normalità viene messa in crisi, viene messa in discussione, viene messa in discussione in modi diversi, la poesia lo fa diversamente, la poesia lo fa più più discretamente, la filosofia lo farà più esplicitamente, sollevando una serie di problemi, perché adesso effettivamente, per far vedere alcune delle questioni, nominavamo Platone e Aristotele, allora uno osserva effettivamente, proprio prendendo spunto da quei versi di Eschilo o di Euripide, ma soprattutto di Eschilo, prima di tutto si tratta, come dire, a un certo punto di quello che farà Aristotele, sbagliando clamorosamente, si tratta prima di tutto di capire, di mettere a fuoco che cosa vuol dire essere donna, cioè che cosa vuol dire la condizione femminile, e qui c'è un esperimento molto interessante che tra l'altro è stato fatto anche adesso da alcuni psicologi, uno dice ok parliamo dell'essere umano, no cosa vuol dire un essere umano? In italiano già l'ambiguità è evidente e l'idea, quando tu pensi, no essere umano, uno pensa sempre a un maschio, perché l'idea è quella, infatti poi tutti i dibattiti anche sul linguaggio di cui si polemizza adesso in modo anche banale, è sempre quello, cioè è tutto costruito sul maschile, che è esattamente quello che dice Aristotele, no? Cioè quando penso, penso sempre a quello, quindi evidentemente quello è il modello di riferimento, cioè la normalità è l'essere umano e la donna a questo punto si declina come l'altro dalla normalità e quindi chiaramente già nel ragionamento stesso, già come un'impostazione mentale, prima ancora che si inizi a parlare espressamente, già la donna è definita in qualche modo come ciò che si distanzia in qualche modo dalla normalità, perché l'essere umano quando è, è il maschio e questo è il ragionamento che in qualche modo fa Aristotele quando cercherà di, come dire, di svalutare, nel senso è naturale, cioè non è come dire no lo facciamo tutti, pensiamo tutti così, vuol dire che è così, è la famosa legge delle treenne, no? È normale, lo fanno tutti, quindi vuol dire che è naturale, perché lo fanno tutti e quindi vuol dire che è giusto, normativo, bisogna fare così, quindi è giusto che la donna, quindi è un fatto di natura che la donna è inferiore, no? E questa è la tesi di Aristotele che poi trova conferme proprio sul problema dello spazio pubblico perché dice poi appunto, guardate cosa succede, ogni volta che una donna, no, il caso di Telemaco, cioè Aristotele dice comunque le donne non è che fanno male, non è che sono negative, semplicemente non le ascolta nessuno, guardate, no, ogni volta che provano a dire qualcosa non le ascolta nessuno, perché appunto non sono maschi, eccetera, eccetera. Quello che farà Platone, mostrando invece la carica appunto del potenziale rivoluzionario che è la filosofia, è di fare una domandina molto semplice, ma perché? Perché? Ditemi solo perché, perché dire siccome è un fatto normale da sempre che le donne stanno a casa e quindi è giusto, non è un ragionamento, no? Quindi Platone dice per favore spiegatemi il motivo, ditemi perché le donne devono essere considerate così, cioè il problema non è tanto ditemi perché le donne devono stare a casa, ma ditemi perché dobbiamo pensare che le donne siano inferiori agli uomini, perché il ragionamento non lo vedo e fa un passo in avanti che è molto interessante e vi dice fisicamente vedo delle differenze che tra l'altro sono quelle, cioè è vero, la donna è più debole del maschio, certo, la donna partorisce, il maschio invece come dire, c'è un'altra funzione, ma a parte queste due differenze fisiche, biologiche, io non vedo il problema, non vedo dove c'è la differenza e allora ecco che viene messo tutto in crisi il sistema e con anche delle provocazioni interessanti perché io qui sto facendo, non so se parlo ancora un minuto, qui sto introducendo una delle pagine più scottanti della Repubblica, perché qui siamo nel pieno del quinto libro, nel momento in cui Platone, Socrate che sta costruendo questa città ideale ha continuato a dire che tutto deve essere in comune, che tutto deve essere in comune ma senza mai spiegare cosa volesse dire questa frase che è un proverbio, le cose degli amici sono in comune, finché gli interlocutori, i due fratelli di Platone con cui discorre, Socrate cosa vuol dire questa roba, continua a dire tutto in comune, ma cosa vuol dire? E lui dice è tutto, le donne così, i figli, ma come i figli? Cosa vuol dire che non c'è più la famiglia? E lui dice certo no, perché una città che funziona bene è una città in cui le donne e gli uomini, scusate vedete, non le donne e gli uomini, le donne maschi, vedete che anche nel linguaggio, le donne e maschi fanno le stesse cose, quindi devono contribuire intanto entrambe al bene della città e questa cosa solleva il grande stupore dei suoi interlocutori, ma no, non è vero, sono diverse, quindi non è vero che devono, ma dove sono diverse a parte maschi e le femmine? Quindi devono essere, devono avere, hanno il diritto e il dovere di avere la stessa educazione, la stessa preparazione dei maschi, perché non vedo differenze. Questo Platone qui sta facendo una mossa molto divertente perché porta subito il discorso in una dimensione comica, perché poi quando si parla, lo vedete anche nel dibattito attuale, quando si parla di queste cose poi si butta sempre in cacciara, per cui subito anche gli dice, ma scusa, l'educazione e l'allenamento, perché l'educazione è qualcosa di completo, stai dicendo che si devono allenare insieme? Certo, quindi stai dicendo che si devono allenare in palestra tutte insieme? Certo, stai dicendo che si devono allenare tutte nude in palestra, maschi e femmine? Certo, e tutti a ridere. E qui si sta alludendo anche a una commedia molto famosa di Aristofane che diceva appunto tutto, e Platone dice, ma scusate, ma perché state ridendo? Qual è il motivo del riso? Ve lo spiegate? Perché dobbiamo ridere? Se io vi dimostro che sono uguale, dov'è il problema? E questo diciamo è l'inizio della provocazione. Poi magari ci posso tornare perché non voglio parlare troppo. Sì, ma a me viene in mente a questo proposito, forse un'osservazione un po' più storica, un po' diversa, cioè anche la differenza tra Atene e Sparta, perché tu parlavi delle donne che si allenano in palestra, eccetera, ma mi sembra che ad esempio ci fosse una certa differenza tra lo spazio pubblico della donna ad Atene e a Sparta, dove invece, come si suol dire, essere spartani, no? Le donne erano spartane anche in questo senso, no? Perché avevano un'altra funzione. Sì, quello è interessante perché Platone appunto lì sta facendo una serie di, sempre uno scrittore molto raffinato, perché da un lato sta giocando con una commedia che conoscono tutti, che è quella delle donne in Parlamento, dove le donne prendono il potere, mettono un sesso, come dire, libero in cui tutte le donne adesso sceglieranno i maschi, con una serie di situazioni boccacesche, facilmente immaginabili. E Platone sta alludendo a quello per dire sì, sì, sto giocando anch'io. Dall'altro canto sta giocando anche con la condizione di Sparta, perché a Sparta effettivamente, paradossalmente, le donne godono di una maggiore libertà rispetto ai maschi, rispetto ad Atene, scusate, perché in qualche modo partecipano di questa vita comunitaria, quindi Platone sta pensando anche a quello. Ed è effettivamente interessante perché uno si immagina che Atene, la culla della democrazia, della civiltà occidentale, sia dove, invece ad Atene le donne più o meno sono come adesso in Afghanistan. Mentre a Sparta c'è quest'idea in cui tutti devono contribuire al bene della comunità, perché l'educazione è un diritto, ma è anche un dovere, anzi soprattutto un dovere, perché nessuno, questa è un'idea importante per i greci, nessuno si salva fuori dalla comunità. Quindi se tu fai parte della comunità, tu devi contribuire. E quindi è il dovere di contribuire, ma anche il diritto di essere preparato a farlo. Quindi ognuno deve partecipare. Questo è interessante perché mostra appunto una condizione più sfaccettata e mostra come appunto questi saperi marginali, perché la filosofia in quel momento non è così importante, Platone che la sta introducendo, mettano in crisi una serie di certezze radicate. Perché poi il punto è veramente, vorrei capire qual è la differenza tra un maschio e una femmina, perché continuo a non vederla. E anche il riferimento che si faceva di Ottima nel simposio è interessantissimo, perché Platone sta continuamente giocando con la tradizione per metterla in crisi. Il sapere più importante viene trasmesso da questa donna misteriosa. Boh, chissà. C'è anche il menessano dove parla Spasia, la compagna di Pericle. E' proprio, come dire, penso sia il primo livello che rende la filosofia così interessante. Cioè il compito della filosofia è di provocare, di provare a smuovere il terreno. Poi magari qualcuno arriverà e mi darà anche una risposta completa, argomentata, sul fatto che le donne sono inferiori. Ma bene, ma intanto però non è ancora arrivata. Quindi finché non è arrivata io vorrei mettere in discussione l'idea. E perché un'ultima domanda, cioè ultima su questo argomento, poi magari passiamo ancora ad altre cose. La donna sacerdotessa. Ecco, ad esempio nel Fedro, quando Socrate, appunto Platone, per bocca di Socrate, parla della mania, della follia d'amore, dice che l'amore è la quarta forma di mania, di follia. Ed è ben legittima, non c'è da vergognarsi, non bisogna fare come Fedro che diceva sulla scorta di Lisia che bisognava concedersi solo a chi non era innamorato. No, cosa c'è di male a essere innamorati? Allora porta degli esempi di divina follia. E tra questi esempi ci sono proprio le sacerdotesse. Mi pare che ne parli al femminile. Ecco, ma perché appunto si tende a identificare questo ruolo di donna e depositari appunto di questo sapere la pizia, la sacerdotessa? Insomma, sono donne. Sì, è una domanda interessante e anche a cui difficile rispondo, però effettivamente è vero che Platone continua a riferirsi in tanti passi nel Fedro, anche nel Menone, allude a queste sacerdotesse, appunto poi l'uso di Aspasia nel Menesseno, Diotima soprattutto nel Simposio, continua a usare figure femminili. Secondo me lo fa prima di tutto per provocare, proprio per mettere in discussione questo sistema. Poi c'è una cosa più interessante perché nella Repubblica c'è tutto un dibattito su cui dopo magari vorrei discutere se Platone sia veramente femminista oppure no, perché lui appunto prende posizione sul problema e farà tutto un ragionamento che lo condurrà a concludere che le donne sono come i maschi e che dunque anche le donne devono partecipare della vita della città e quindi essere educate, eccetera, eccetera. Non c'è nessun motivo per distinguerle. Ed è una tesi provocatoria radicale, infatti gli diranno, guarda che ti prendo una pietrata in testa se vai avanti con queste idee, gli interlocutori a Socrate. Quindi da un lato c'è questo, però Platone fa anche fatica perché, come dire, gli manca persino il linguaggio per cercare di parlare, proprio perché ogni volta che parli esseri umani... E la cosa interessante che ho notato in Platone è che lui in qualche modo cerca come di trasformare tutto in senso femminile, perché nel Fedro una cosa interessantissima che non è stata osservata, se uno lo legge, quando parla dell'amore, perché poi quello è un problema, no? Perché il sesso è diverso, cioè quello è un fatto. Il problema è quanto questo sia importante. Allora, quando lui parla dell'amore è molto interessante perché ne parla, anche se è una cosa che non ha notato nessuno, credo, ne parla sempre in termini femminili. Cioè è sempre come dire, l'amore è sempre una cosa che ti riempie, che non è mai attivo, è sempre questa capacità di aprirsi e di lasciarsi riempire da qualche cosa, con una serie di allusioni erotiche molto marcate, molto evidenti, che riprende dalla poesia che noi purtroppo non abbiamo, però è chiaro che sta giocando. Ed è interessante perché lui cerca, come dire, di ripensare tutto, fare proprio quella mossa. È veramente un'operazione sottilissima, perché sta proprio cercando di provare a pensare la realtà dal punto di vista femminile, che non è facile essendo lui un maschio. Però, cioè, un conto è dire a parole, sì, quando pensiamo all'essere umano, ci viene sempre in mente un signore con la barba, perché poi uno pensa sempre a Dio. Un conto è dirlo, ok, vabbè, sbagliato, adesso cosa dobbiamo fare? Proviamo a ripensare la realtà da un altro punto di vista. Platone fa questo sforzo titanico in certi passaggi del fede di provare a dire, ok, proviamo a pensare, ed è l'unico che lo fa nel mondo antico, secondo me è una cosa interessante, perché, appunto, poi lo fa in modo provocatorio, tutti ridono, ma lui sta facendo una cosa, uno sforzo di intelligenza mostruoso, secondo me. Secondo me è una cosa simile, scusa se ti ho interrotto, la fa anche, cioè, oltre a Platone, un altro che, secondo me, cerca di mettersi da un punto di vista delle donne, senza arrivare a pensare che Euripide fosse femminista, cosa che mi viene l'orticaria ogni volta che lo sento dire, però devo dire che se c'è un poeta che mi viene in mente e se c'è una tragedia che a questo punto mi sovviene, in cui tutto questo accade, è la Medea di Euripide, dove abbiamo, appunto, questa figura stranissima di Medea, che dovrebbe essere, appunto, la, la, perché è una donna barbara, è una maga, è, appunto, è straniera, e aveva aiutato Giasone a andare a recuperare il vello d'oro, e per far questo aveva fatto a pezzi suo fratello, aveva aiutato a fare a pezzi suo fratello, insomma, arriva a Corinto, dove Giasone decise di sposarsi con la figlia del re Creonte, eccetera, e quindi Medea a questo punto si nervosisce parecchio, forse troppo, però fa un discorso che secondo me potrebbe essere così riassuntivo della condizione della donna di ogni tempo, di cui adesso vi leggo dei versi. Medea dice, di tutte le creature che hanno anima e cervello, noi donne siamo le più infelici, per prima cosa dobbiamo comperarci un marito, che diventa padrone del nostro corpo, e questo è il male peggiore, ma c'è un rischio più grande, sarà buono o sarà cattivo? Separarsi è un disonore per le spose, e rifiutare lo sposo è impossibile, quando si stanca di stare a casa, l'uomo può andarsene fuori e vincere la noia, noi donne invece dobbiamo stare sempre con la stessa persona, dicono che viviamo in casa, lontane dai pericoli, mentre loro vanno in guerra, che follia, è cento volte meglio imbracciare lo scudo piuttosto che partorire una volta sola. E ditemi se non aveva torto in tutto questo, però di contro, c'è Giasone che nella stessa tragedia dice che è il padre dei figli di Medea, è l'oggetto più grande del suo odio per come lui l'ha trattata dopo tutto l'aiuto che lei gli aveva dato, Giasone dice, bisognerebbe che gli uomini generassero figli in qualche altro modo e che non esistesse la razza femminile, così per loro non ci sarebbe alcun male. La cosa secondo me però più straordinaria che capita nella tragedia di Medea, d'altra parte Euripide era un poeta straordinaria, è che Medea finirà per compiere la sua vendetta atroce, cioè di uccidere i suoi figli, però non viene mai, mai condannata da Euripide in nessun punto della tragedia. È piuttosto Giasone che è l'uomo che ne esce peggio ed è disegnato appunto come l'ingrato, come un uomo che non capisce anche la potenza della donna che ha di fianco, che ha avuto di fronte i suoi occhi per anni e di cui si è innamorato e che ha tradito. È infatti la prova del nove di questo, non dico riabilitazione, però di questo tentativo estremo di comprendere le azioni di Medea si trova alla fine della tragedia, quando alla fine Medea è il deus ex machina della sua stessa tragedia, cioè appare sul carro del sole, nessuno la giudica è anzi, lei sta per andare ad Atene, fugge dopo aver ucciso i suoi figli appunto, mi ripeto, fugge, va ad Atene sul carro del sole e sembra quasi che gli dèi siano comunque se non d'accordo non in opposizione con la sua azione perché nessuno la ferma e lei appunto è diretta ad Atene che come noi sappiamo è la città della giustizia, dell'area opago, delle leggi eccetera. E così questa secondo me è una cosa straordinaria, così come altrettanto straordinaria sempre riguardo ad Atene è un'altra figura però di questa volta di Aristofane della Commedia, mi attacco a quello che diceva Mauro prima appunto delle donne in Parlamento, mi vorrei concentrare sulla figura di Lisistrata. Nella Lisistrata di Aristofane le donne fanno una cosa molto particolare, organizzo uno sciopero del sesso per far cessare la guerra del Peloponneso che da anni travolge Atene e Sparta. Questo progetto richiede molto coraggio, molta decisione perché le donne più giovani dovranno appunto così essere il più desiderabili possibile e eccitare al massimo il desiderio dei loro mariti e poi scappare all'ultimo e invece le donne più vecchie dovranno occupare l'acropoli che appunto è il simbolo delle decisioni, della giustizia e di tutto quel che concerne la guerra e la pace ad Atene. Tutto nella tragedia è piuttosto esplicito e diciamo che questa rinuncia è anche molto pesante per le donne e infatti Lisistrata a un certo punto sbotterà. Certo che noi donne siamo davvero una razza completamente prima di qualsiasi dignità. Ecco perché le tragedie prendono sempre spunto da noi. Noi non siamo capaci di far altro che andare con gli uomini e far figli e fra l'altro gli stessi uomini della tragedia, come voi potete immaginare, reagiscono veramente male e sono molto increduli e indignati e sottolineano l'audacia e la trasgressività di questo gesto dicendo chi avrebbe mai immaginato che le donne si sarebbero impossessati di Atene, non si esiste al mondo nessun animale che sia più svergognato delle donne, che diritto avete di mischiarvi della guerra e della pace, comportamenti scostumati delle donne, privi di qualsiasi misura eccetera. Però secondo me la cosa così interessante di tutta questa commedia è uno che non possiamo considerarla veramente una commedia femminista. Se mai è una commedia il femminile. Diciamo che funziona a mio avviso come una sorta di carnevale di mondo alla rovescia. È come se Aristofane volesse dirci, certo che se ci arrivano anche le donne a pensare che la guerra deve finire e ci possono arrivare veramente tutti. Però questo, attraverso questo, cioè la sua idea senz'altro era questa, non era quella di disegnare un'idea così utopica di potere delle donne, però pur non volendolo disegna comunque una figura e delle figure così diverse da quelle delle donne che abbiamo finora così descritto e che sono simbolo dell'intelligenza comunque dell'audacia delle donne di ogni tempo. Quindi non volendolo però ci disegna veramente molto bene. Quindi grazie Aristofane. Grazie Barbara, anche grazie Mauro. No e allora volevo arrivare ad un'altra conclusione provvisoria però. E allora Platone, Euripide, Aristofane. Allora certo come ha detto Barbara non si possono definire femministi, sarebbe anacronistico, sarebbe semplicistico eccetera. Però possiamo anche dire e guardando anche al tema di questo festival, libertà e schiavitù in qualche modo, che questi autori comunque cercano proprio per la loro intelligenza e la loro propensione alla complessità di liberarsi da ogni, per così dire, gabbia ideologica, cioè il maschilismo, anche quello in Grecia, è comunque un'ideologia in qualche modo. Allora mi sembra molto importante che questi, ma forse un po' tutti gli autori per la loro grandezza, i classici cercano sempre di aprire più prospettive, non una sola, è difficile che siano interpreti di un solo punto di vista e tanto meno di un'ideologia. Però questi in particolare, anche proprio per il loro tempo, per il loro tipo di speculazione o di rappresentazione, cercano di liberarsi di questa ideologia in qualche modo, aprendosi comunque a un pensiero doppio, per così dire, cioè a un'altra prospettiva, contemplano un'altra prospettiva. Platone appunto in senso problematico, come è stato detto, cioè domandandosi perché appunto la donna deve essere inferiore, deve essere relegata. Poi ci sono delle contraddizioni che però non sono in realtà proprio tali, cioè sono delle tensioni, non so posso dire dialettiche, mi sembra troppo egheliano, però proprio delle tensioni interne felicemente diciamo attive, proprio a dare i due punti di vista. Come appunto è stato detto in Euripide, in Aristofane in fondo la donna prova ad essere interprete di un'utopia, cioè quella di far cessare la guerra. Poi anche lì Aristofane alla fine, correggimi se sbaglio, però è pessimista nel senso che poi non ce la fa nessuno, cioè lui ipotizza i contadini, le donne, insomma prova delle possibilità però poi cede. Però ecco questo libertà e schiavitù, ecco la donna mi pare che rientri in questo senso, cioè in questo rapporto, cioè c'è una certa tendenza anche degli autori a liberare le donne in qualche modo da questo spazio ristretto, da questi pregiudizi che erano tali anche allora, no? Sì appunto, secondo me appunto la cosa più straordinaria è proprio pensare a una società in cui, anche per quel che riguarda la tragedia e la commedia su cui io finora mi sono concentrata, noi non abbiamo idea, cioè l'idea principale è che le donne non andassero neppure a teatro, cioè queste, le donne insomma in Grecia passavano da stare nella casa del padre, quando passare l'infanzia e l'adolescenza nella casa del padre e poi passavano alla casa del marito insomma dell'uomo con cui stavano, che sposavano se non venivano ripudiate eccetera, però è straordinario secondo me che è una società veramente maschilista come quella greca perché non credo, ho parlato così rapidamente di Pandora, però il mito di Pandora se uno ci riflette attentamente è persino più maschilista di quella, cioè l'interpretazione è ancora più maschilista di quella di Eva, quella di Pandora, correggetemi se sbaglio, perché davvero, cioè almeno Eva nel momento in cui del peccato originale, dopo Adamo e Eva condividono così i dolori dell'esistenza, invece Pandora è considerata sin dall'inizio manca una costola dell'uomo, proprio cioè gli uomini c'erano già nel momento in cui Pandora dopo viene creata e quindi una società così maschilista, così improntata prima, sempre sulla guerra, perché alla fine in Grecia, non so, dalla guerra di Troia appunto che è la guerra della leggenda, poi le guerre persiane, poi le guerre del Peloponneso, insomma questa era la guerra civile, questa era sempre in guerra e però disegnano queste figure incredibili dove appunto si può evidentemente, è un'utopia come diceva chiaro, comunque sono delle figure con cui i poeti possono esplorare un'altra faccia della società che però è assolutamente misteriosa, ecco. Sì, volevo appunto tre punti molto veloci, il primo proprio mi ricollego adesso, spero che si sia capito quello che dicevi tu proprio all'inizio, quando uno dice che i saperi umanistici non servono a niente, i saperi umanistici servono, penso proprio a aiutarci a capire le cose nelle prospettive diverse, cioè questi grandi autori pur con tutti i loro pregiudizi perché appunto Aristofane e Euripide non mettono in discussione proprio niente, però comunque hanno quella grandezza di provare a pensare il mondo da un altro punto di vista, in un'altra prospettiva, con gli occhi di qualcun altro, col corpo di qualcun altro, ad esempio delle donne, è questo appunto sapere la grandezza della letteratura, della filosofia, questa capacità come dire di provare ad andare al di là di quello che sembra banale, normale, evidente e vedere che le cose sono sempre più complicate, appunto quello che Platone fa invece con molta più consapevolezza perché appunto poi, adesso volevo parlare in secondo di questo, l'unico verente di cui si potrebbe dire, interrogarsi se sia stato femminista o no, è proprio Platone nell'antichità, altri non penso. A conferma di quello che dicevi adesso, perché non è che i filosofi sono tutti sempre da celebrare, di quello che dicevi adesso c'è una teoria interessantissima che secondo me spiega perfettamente tutto che è la teoria degli stoici, negli stoici hanno quest'idea di un universo provvidenzialmente creato in cui tutto funziona perfettamente perché tutto in qualche modo è espressione, manifestazione di questa potenza razionale buona della divinità che informa tutto. E poi c'è il problema a questo punto, uno dice va bene, tutto bene, però purtroppo la società in realtà non funziona molto bene, è corrotta, funziona tutto male, quindi dov'è che c'è il problema? No, se tutto deve andare bene, dov'è che c'è la corruzione? Dov'è che in un certo momento le cose non andavano bene? Cioè dov'è che se la società, non so se mi sono spiegato, tutto dovrebbe andare bene, perché noi per natura siamo buoni e però la società è corrotta, quindi dobbiamo capire come è successo questo fatto. E loro hanno una teoria veramente geniale nella follia, dicono c'è stato un momento in cui gli uomini che erano buoni per natura sono stati corrotti, perché sono stati corrotti? Perché in qualche modo gli è stato trasmetto che il piacere era una cosa buona e da quel momento lì invece di cercare di seguire il dovere e la razionalità hanno seguito il piacere corrompendo tutto. E sapete qual è quel momento? Quando le mamme facevano il bagno caldo ai bambini. In quel momento, con l'acqua calda, il bambino ha scoperto la corruzione e da lì la società è andata in malora, quindi diciamo una versione ancora peggiore di quella di Eva o di... cioè è sempre colpa delle donne, no? Certo. Cioè perché così? No, gli avete fatto, devo dire, gli avete fatto bagno caldo, ecco, adesso l'avete rovinato per sempre, oppure lui. Cioè la follia, c'era un brutto, trovare una risposta filosofica, questa è una risposta filosofica ma è fermenticante. Platone invece, perché dicevo, è l'unico che può essere considerato femminista, no? Perché lui dice, è proprio il problema di cui si discute oggi, appunto buttandola in cacciara, lui dice, è inutile negare la distinzione biologica, cioè sarebbe folle, no? Cioè, ma pare che si discute pure di questo, ma lasciamo perdere. Per il platone non ha senso, no? I maschi e le femmine sono diversi, perché i corpi sono diversi. Il problema è che noi associamo una serie di caratteristiche, di caratteristiche a questi due corpi, come dire, la donna è passiva, la donna ha bisogno di essere protetta, la donna è debole, il maschio invece è attivo, è più razionale, la donna è più sensuale, passionale, la cagna, svergognata, tutte queste idee che ho trovato ovunque nella letteratura greca, e Platone dice, ma da dove vengono queste idee? E quello è il punto, no? Biologicamente siamo diversi, ma culturalmente siamo diversi o no? Perché appunto l'errore che fanno in Grecia è quello di dire che siccome siamo diversi biologicamente, allora siamo diversi anche culturalmente. Siccome Platone, lì vedete l'importanza, siccome Platone dice, ma quello che noi siamo veramente non è il corpo, è l'anima, e allora dice, allora vedete esattamente in termini un po' metafisici il problema di adesso, cioè, va bene, la donna è più debole dell'uomo, ma vuol dire per questo che è passiva, sensuale, schiava del corpo? Da dove viene questa idea? Questa è un'idea culturale, perché mi parlavo proprio ieri sul Corriere, se tu educhi una persona dicendo, come la famosa monaca di Monza, a uno gli dai, vai a giocare, arrampicati sugli arbitri, gioca a pallone, quell'altro gli dici, stai a casa con le bambole, e poi quella diventa mansueta mentre quell'altro è scatenato. L'hai prodotto tu la distinzione, non era in natura. Quindi vedete, Platone è il primo che dice questa distinzione è culturale, non è naturale, quindi non ha nessuna ragione d'essere, perché noi potremmo cambiare la nostra idea di società e quindi cambieremmo i rapporti. Quindi, da questo punto di vista, Platone è veramente un filosofo femminista, è il primo che mette esattamente il termine della discussione ad Erna, cioè, come dire, questa germinazione culturale su dei fatti naturali, quale valore abbia. In realtà poi c'è tutto un dibattito, perché poi si sono scatenate una serie di studiosi dicendo esattamente il contrario, perché quello che fa Platone è in realtà esattamente il contrario di un'altra idea di femminismo, che è quella che invece dice, no, la differenza del corpo è una differenza importante. No, come diceva, io non partorisco, quindi stai zitto, non puoi capire, ci sono delle differenze del corpo che vanno difese. E quindi a questo punto Platone non è più femminista, ma questo è un dibattito interno al femminismo contemporaneo, perché a quel punto Platone diventa, come dire, quello che vuole cancellare tutte le differenze. Invece c'è un dibattito interessante odierno in cui c'è una nuova, diciamo, generazione di pensiero femminista che dice, no, bisogna mantenere la differenza tra maschio e femmine. ma questo non deve significare una gerarchia di valore, è l'unica differenza, quindi non è vero che siamo uguali, siamo diversi perché i nostri corpi che Platone voleva cancellare sono importanti, ma questo non significa che i maschi siano superiori alle donne come pensava Aristotele. Quindi vedete, insomma, che gli antichi, come dicevi tu all'inizio, ci aiutano a mettere a fuoco i problemi, poi non sappiamo neanche adesso quella risposta, quindi non è che poteva, Platone ne ha una, magari è giusta, magari è sbagliata. No, il Platone LGBT, non possiamo veramente arrenderci, però, cioè, non possiamo farcela. Però no, quello che io volevo chiedere, tornando seri a te, appunto, a Mauro, è questo, appunto, c'è quel passo di Platone che hai citato prima nel quinto libro della Repubblica, in cui lui proprio dice, quindi le donne e gli uomini sono uguali, ne parlavamo anche prima durante il nostro caffè, però in tutte queste cose le donne sono più deboli dell'uomo e usa proprio in greco l'aggettivo ascenes, che significa, appunto, alfa privativo, steno, che è essere forti, cioè proprio una debolezza. Che tipo di debolezza, secondo te, si intendeva? Una debolezza proprio fisica. Solo fisica? Sì, perché lui, lì, cioè, poi questo si riallaccia a tutta una serie di problemi sul pensiero politico di Platone, perché lì siamo su un terreno minato, perché, ad esempio, lui sta giocando anche sull'eugenetica, cioè sta introducendo una serie di temi molto scottanti, però, proprio, il problema è che qui, poi alla fine si deve andare in guerra, quindi, quando si va in palestra, ci si prepara il modello un po' spartano, perché lui è chiaro che quando vai in guerra, se vuoi vincere la guerra, non è che puoi mettere sulla prima linea, sul fronte, solo delle donne, perché quegli altri sono più forti, ti ammazzeranno, quindi è proprio, però lui può dire, ma a parte questo, non c'è nessun problema, poi in realtà, lui, adesso non c'è molto tempo, è complicato, perché poi comunque, quando deve dimostrare l'uguaglianza, dice, ve lo spiego subito, qualunque cosa, prendete qualunque cosa, qualunque tipo di attività possibile e immaginabile, i maschi sono sempre meglio, quindi non è vero che ci sono cose per le donne, cose per le femmine, ragionamento è questo, qui uno dice, ma come? Cioè, uno salta sulla sedia, ma sono due ore che stai dicendo che sono uguali, poi dici che sono uguali, perché sei sempre meglio il maschio, quindi la donna, è tutto più, ma lì è dove lui fa fatica proprio a usare le parole, a trovare le parole, perché è difficile, veramente, quando tu hai messo in discussione, cioè, quello che lui, questa capacità del linguaggio, per questo la poesia, la letteratura, di mettere in discussione, cioè, il linguaggio veicola una visione del mondo, quando tu metti in discussione quella visione del mondo, poi non ti mancano le parole per crearne un'altra, e lui quindi poi ogni tanto ha delle cadute rovinose, o forse, in realtà, probabilmente non l'ho capito io, perché poi lui è sempre più intelligente, però, è proprio faticoso quello, infatti anche molti pezzi che citavi, basta, e lui, e lui, che qui 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 qui, è il linguaggio, per caso, gli un'estitore, ma l'estitore, e lui, e lui, non l'estitore, e lui, e lui, e lui,